Ciao bambini, ciao a tutti! La maestra Carmene voleva salutarvi perché è da un qualche giorno che non ci vediamo e come vi avranno raccontato i vostri genitori, per qualche altro giorno non ci rivedremo, non torneremo in asilo perché sta girando una brutta influenza e il dottore ha detto a tutti noi che è meglio rimanere a casa. Quindi siccome non ci siamo salutati vi volevo mandare un bacione e dirvi di giocare tanto e fare tanta nanna. Un bacio!